Prima nevicata a quote basse per questo avvio di stagione invernale. Le immagini che vedete ci giungono da Bormio, dove i fiocchi hanno fatto la loro comparsa poco prima delle 14 di questo primo di dicembre. Sono circa 5 i centimetri di coltre bianca scesi sulla cittadina alpina, non molti certo, ma il colpo d'occhio è già un'altra cosa in una Bormio nella quale comune e commercianti stanno posizionando le luminarie, mentre in piazza del Querc fa già bella mostra di sé l'albero di Natale, per queste feste vessate da regole fortemente stringenti in tema di pandemia. E intanto a Santa Caterina Valfur va in preparazione la pista, lungo la quale sabato e domenica prossimi si terranno i giganti maschili di Coppa del Mondo, secondo e terzo appuntamento di specialità che, dopo Solden, si sarebbero dovuti tenere in Val di Zer. Lungo le strade, naturalmente, il richiamo è alla massima prudenza, soprattutto durante la guida serale, a causa del possibile manto stradale ghiacciato. Ma i fiocchi hanno fatto la loro comparsa un po' ovunque, sopra i 600 metri di quota, da Madesimo alla Val Malenco e fino in Altavalle.